Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono tornata con un nuovo video e si tratta di una nuova collaborazione. Questa volta si tratta dell'azienda Panda All Selected. Quindi per me è la prima volta che faccio una collaborazione con questa azienda e sono molto molto felice perché ovviamente penso un po' tutte, siamo molto felici quando facciamo queste collaborazioni perché magari così sbirciamo un po' di più sui siti e vediamo delle cose che ci piacciono molto e che magari non li troviamo spesso e dappertutto. Sono contenta di fare queste collaborazioni anche perché così mi dà una spinta diciamo di tornare a creare e di fare nuovi video sul canale. Spero che questa cosa la gradite e nonostante ho poco tempo comunque volevo fare questo video. Questo pacco mi è arrivato tre giorni fa, ovviamente dopo tre giorni sono riuscita a fare il video e spero di riuscire a finirlo soprattutto. E niente, adesso vi mostro cosa ho scelto per questa collaborazione. Se volete andare sul sito dopo vi lascerò ovviamente giù nell'info box tutti i link utili e vi consiglio di dare comunque un'occhiata perché ci sono delle cose davvero molto molto carine e ovviamente che costano poco e quello che preferiamo noi creative un po' tutte. Ovviamente vi servirà tipo una settimana, io per fare questa collaborazione mi è servito una settimana a guardare sul sito, ero indecisa, mettevo, toglievo, mettevo, toglievo e alla fine dico vabbè prendo giusto qualcosa perché sennò sono sempre indecisa. Sinceramente a me piace tutto quindi non sapevo cosa scegliere. Alla fine ho deciso e ho preso delle cosine molto molto carine. Spero che vi piacerà. Adesso apro il tutto e vi mostro cosa ho scelto per questa collaborazione con Panda All Selected. Allora qui c'è la nostra bolla se possiamo chiamarla così. Ovviamente non può mancare il coupon, il codice sconto che è un coupon di 10% di sconto su tutti i ordini. La validità di questo coupon, quindi potete usufruire di questo coupon a partire dal 28 maggio 2022 e finisce il 28 maggio 2023 quindi avete un anno per usufruire di questo coupon. Ovviamente è valido su tutti i prodotti, tutti i articoli Panda All Selected. E qui sono i quattro articoli che io ho scelto per questa collaborazione che adesso vi mostro uno per uno. Ovviamente anche il coupon ve lo lascerò giù nell'info box e tutti i link utili, tutto quello che vi serve per andare a dare un'occhiata. Allora partiamo intanto con questi. Io li ho aperti perché c'era la plastica. Allora stavo dicendo, c'è il bimbo quindi mi è un po' difficile, devo stoppare ogni tanto e parlare con lui. Quindi stavo dicendo, iniziamo con queste monachelle che ho scelto, questo è il codice. Io ho tolto la plastica che era tutto sigillato con il codice, tutto per facilitare un po' le cose e per mostrarvele più velocemente. Quindi partiamo da queste monachelle che è una scatola e dentro la scatola ci sono 200 pezzi. Adesso ve li mostro anche un po' più da vicino. Ecco. Il bello di queste monachelle, sono semplici perché volevo qualcosa di semplice, il bello di queste monachelle è che sono in ottone e sono placati oro 18 carati. Quindi diciamo che è una qualità molto buona. Quindi anche per chi magari è allergico a qualche composizione metallica e magari a loro no, queste qua vanno benissimo per chi è allergico. Come vedete hanno solo la pallina e sono semplici, sono anche piccoline. Non mi ricordo esattamente la misura, però non sono molto grandi. E in totale ci sono 200 pezzi. Quindi di queste monachelle sono davvero molto molto felice anche perché io gli orecchini non li indosso mai, mai e mai con i perni. Faccio magari dei video, dei tutorial, vi li mostro con i perni magari per venderli, però io non indosso mai i perni perché non lo so, nonostante siano bellissimi ma non mi piacciono. Io preferisco le monachelle anche per utilità nel mettere gli orecchini, nel dosare gli orecchini. Mi è più semplice ecco e preferisco di più le monachelle. Bene, questo è il codice e passiamo al prossimo articolo che è questa. Anche qui ho aperto per vedere un po' dentro e per facilitare le cose. C'era questo qui intorno. Ok, questo è il codice e qui abbiamo le cavigliere che io adesso per l'estate le adoro. Ve le mostro un po' da vicino, vediamo il colore che capita. Dentro ci sono sei pezzi, sono due pezzi sul rosa, due sul nero e due sul bianco. Ed eccole qui, queste sono le nostre cavigliere. Ovviamente c'è anche la catenina per allungarla. E il moschettone. Anche questi sono in acciaio inox. E dentro ci sono sei pezzi. Quindi, come dicevo, due sul bianco, due sul rosa e due sul nero. Io le trovo davvero molto molto carine. Cioè, davvero. Sono molto molto fini e molto carine. Bene. Vi mostro di nuovo il codice. È questo qui. Quindi per me è un'ottima qualità. Già se sono in acciaio inox, per me è un acciaio inossidabile. È davvero ottimo. Poi, passiamo a questi ciondolini. Che io adoro alla follia. Vediamo se riesco ad aprire. Qui abbiamo le coccinelle. Che io le adoro. Ci sono sul nero, sul blu. Blu, azzurro, diciamo. Sì. Quindi nero con rosso. Azzurro con nero. Rosa. Un rosa molto chiaro. Con bianco. Sono bianco e nere. E poi ci sono le classiche coccinelle. Rosso e nero. Che adesso vi mostro una da vicino. Così vedete anche la grandezza. Eccola qui. Come vedete sono molto carine. Molto piccoline. Io le trovo davvero perfette. Anche per fare un paio di orecchini. In assemblaggio. Infatti è quello che farò sicuramente per me. Bene. Quindi. In totale. Non saprei dirvi quanti ci sono di coccinelle. Perché non ho guardato. E neanche di farfalle. Però in totale. Sono 60 pezzi. E qui abbiamo le nostre farfalline. Che ormai sto diventando pazza. Per le farfalle. Adesso ve le mostro un pochino. Più da vicino. Ecco qui. Sono sul verde. Sul blu. Un po' con il viola. Questo qui che è un po' sul rosa. Però non si vede beige. Qui è oro. E un po' di nero. E sì. Queste quattro colorazioni ci sono. Sì. Che sono davvero molto molto carine. E ah è questo sul nero. Ecco. Questa mi piace tanto. Sono fatte così. Non sono neanche grandi. Come vedete. Questo è il retro. Che è anche molto carino. E sono fatti in lega. Quindi sono molto. Cioè durano nel tempo. E non si rovinano subito. Ecco. Quindi vi dicevo che in totale sia le farfalline insieme alle coccinelle sono 60 pezzi. Bene. Adesso vi mostro anche il codice. Che è questo qui. E passiamo all'ultimo articolo. Che è questo qui. Di questo ne sono veramente innamorata. Questi penso che siano già pronti. Però ovviamente io non li lascerò così. Li ho presi. Come avete già indovinato. Sono dei segnalibri. Quindi abbiamo la Torre Eiffel. Ecco qua. Che anche questi sono in acciaio. Sono molto sottili. Molto leggeri. Ecco qui. Quindi abbiamo quattro con Torre Eiffel. Poi quattro così. Big Ben. Poi abbiamo quattro con la Statua della Libertà. Che anche questa la adoro. Ecco. Cioè sono davvero dei segnalibri molto molto carini. Io ovviamente toglierò questi fili perché volevo utilizzarli in un altro modo. E qui attaccherò sicuramente una mia creazione. Che poi ovviamente vi farò il tutorial e vedremo insieme come farlo. Bene. E quattro con la Torre di Pisa. Ecco qui. Che io davvero adoro queste segnalibri. Mi piacciono davvero tanto. Sono molto molto carini. E anche come idea regalo. Questa qui non so se è rovinata o sarà sporca. Poi vedrò. Comunque questi sono i nostri segnalibri. In totale sono... Sono sono quanti sono? 16 pezzi mi sembra. Sì. Una, due, tre, quattro. Sì. Sono 16 pezzi di questi segnalibri. E questo è il codice. E questo è tutto per questa collaborazione. Quindi vi lascerò tutto giù nell'info box. Mi raccomando andate a dare un'occhiata e usufruite del coupon del 10% sui vostri ordini. Questo è tutto. Vi mando un bacione e al prossimo tutorial. Ciao ciao!